Salve a tutti, io sono Alfredo Jabarian, mio cognome ha un'origine medio orientale, infatti mio padre è renaniano e sono un consulente tecnico per l'Aurmet dal 2019 e seguo la zona di Prato e Pistoia per la Toscana. Il mio lavoro è sicuramente molto stimolante, ogni giorno non è mai uguale a quell'altro, essendo sempre comunque a contatto con le persone ti dà anche molte soddisfazioni. Il cliente che mi chiama solamente quando deve comprare qualcosa, il prodotto è perfetto e lui è contentissimo del mio supporto. Un venditore unico che non dovrebbe mai fermarsi alla problematica, capitano comunque questo nei lavori, ma concentrarsi sulla soluzione del problema. Quando finisco di lavorare torno a casa dove ho i miei bambini che mi aspettano per fare il vola vola, quindi appena torno c'è l'assalto. Le donne nel mondo dell'installazione non sono molti, anzi direi praticamente assenti, perché è una domanda difficile sta. Sinceramente ci sono anche molti ragazzi che mancano nel settore, ormai sono più presenti di uomini sopra i 40, anche sopra i 50 anni, quando ragazzi di nuova generazione non approcciano questo tipo di mercato. La mia serie preferita? Breaking Bad, che tratta di un professore universitario che per salvare economicamente la sua famiglia e sceglie di fare un percorso poco legale. La mia squadra del cuore è l'Inter. Amala!